Amici alla visione all'ascolto, buon pomeriggio, eccoci con Nicola Binda che è responsabile della Serie C, della Serie B per Gazzetta dello Sport, dal 1989 il massimo esperto italiano almeno per me di Serie C e ieri io e lui abbiamo ricevuto una notizia che a me ha scosso molto, a lui un po' di meno, forse la Serie C riprende, era una cosa inopinata oppure tu te l'aspettavi innanzitutto? Ma no, la Lega Pro aveva giocato d'anticipo con questa assemblea nella quale la stragrande maggioranza dei club si era detta pronta a fermare l'attività per questa stagione, avevano votato la volontà di bloccare i campionati insieme alle altre, alle promozioni a tavolino, a quella per merito sportivo, il blocco della retrocessione, il blocco dei ripescaggi, ha giocato d'anticipo una mossa che però la Federcalcio non ha gradito perché la Federcalcio non accettava segnali di resa, voleva comunque dare la forza, l'immagine e la sensazione di voler continuare a giocare e tornare in campo. Una Lega autonomamente può dare un'indicazione a suo rischio e pericolo, infatti il rischio e il pericolo sono stati che la bocciatura politica è stata su tutti i fronti netta, quindi la Federcalcio ha detto qui non si ferma nessuno, scendiamo da professionisti e dilettanti, per i dilettanti è un problema oggettivamente più complesso, quindi è stato comprensibile il loro stop per i professionisti, invece vogliamo giocare, vogliamo provarci, vogliamo cercare di portare a fondo questa stagione terribile. Il Presidente di Lega Pro Francesco Ghirelli ha perso questa battaglia con Gravina, però i 60 medici delle società di Serie C sono tutti con lui, non c'è nessuno che vuole firmare protocolli sanitari più o meno complessi. Come andrà a finire? Quale sarà la soluzione secondo te che metterà d'accordo sia Gravina che Ghirelli? C'è una commissione medico-scientifica che sta soprattutto, che è legata al governo e che è quella che ha obiettivamente frenato ogni protocollo, anche quello per la Serie A, perché nessun medico sportivo nemmeno in Serie A voleva assumersi la responsabilità in caso di nuovi contagi, quindi il nodo è sempre stato quello. Se però si trova la soluzione vuol dire che col passare del tempo il rischio contagio cala e si sta andando verso una ritrovata serenità e quindi se la Serie A riesce a ripartire proverà a farlo anche la Serie B e di conseguenza anche la Serie C. Poi certo c'è tempo fino al 20 agosto, però obiettivamente il tempo stringe col passare delle settimane, del tempo. Quindi per questo l'ipotesi per la Lega Pro di giocare solo dei play-off e dei play-out per scrivere i verdetti è quella che potrebbe prendere corpo. Questa è un'ipotesi, ma al momento l'unica certezza è quella di giocare e completare i campionati. Poi ripeto, se col passare della settimana di giocare le giornate mancanti e poi non sarà possibile, si studierà una formula dei play-off che al momento potrebbe essere quella in vigore, quella delle 28 squadre, magari anche quelle prime tre in classifica che di diritti acquisiti ufficiali non ne hanno ancora, aritmetici non ne hanno ancora, hanno solo dimostrato di meritare il primo posto, però potrebbe non bastare per avere la promozione diretta. Quindi si sta valutando la soluzione sapendo che Gravina e la Federcalcio con le nuove norme hanno la facoltà di cambiare il format in corsa, cosa che prima non era possibile, quindi non potevi cambiare in corsa le regole del gioco. Adesso invece la Federcalcio ha questa facoltà di cambiare e quindi più passa il tempo, più si studierà la formula migliore perché i verdetti siano scritti dal campo e non a tavolino. Qual è la tua impressione invece sulla prossima stagione, anche se sembra assurdo parlare di 2020-2021, però insomma ci sono anche questi discorsi, si dice che si potrebbe addirittura iniziare ottobre-novembre, ma resterà qualche società in Serie C? È una domanda un po' estrema però. Sulla ripresa chiaramente si è legata ai tempi, all'attualità, alla situazione sanitaria nazionale, quindi adesso si cerca di portare in fondo questa stagione. Poi si ripartirà, certo la stagione anziché finire del 30 giugno, finirà il 31 agosto, dal 1 settembre incomincia quella nuova e si ipotizzeranno delle date per provare a ricominciare, ma non andiamo troppo lontano, ripeto, prima si cerca di finire questa, poi una volta finita questa c'è tempo per fissare le date della prossima stagione, quindi tutto slitta di due mesi, i tesseramenti, il mercato e quant'altro e quindi ripeto, per me è giusto fare una cosa per volta, prima pensare a questa stagione e poi la prossima, nella quale obiettivamente lo scenario economico è molto preoccupante, molte società già facevano fatica prima, quest'anno con grandi sacrifici, grazie alle nuove regole, i campionati erano regolarissimi, non c'erano penalizzazioni, fallimenti, mancati pagamenti, quindi era stata trovata una solidità di sistema eccellente, perché le condizioni economiche sono sempre, ripeto, difficili, però nonostante questo le nuove regole avevano fatto sì che i campionati fossero regolari, l'anno prossimo non escludo che molte proprietà si arrendano, dicano, no guarda quest'anno mi spiace, non ce la facciamo iscriverci, buona pace dei tifosi, qualcuno ne approfitterà, perché già qualche Presidente aveva il capio al collo, faceva il campionato perché è obbligato e costretto, una rinuncia sarebbe stata presa malissimo a livello sociale, adesso invece se lo fa potrebbe avere la giustificazione e la scusante, però col passare delle settimane da quello che prima, due mesi fa sembrava 20-30 società dovessero rinunciare, adesso credo che le rinunce saranno ridotte a poco, semmai credo che la certezza sarà quella che molte società attueranno una spending review e diranno va bene, andiamo avanti, facciamo uno sforzo, continuiamo a giocare, però lo facciamo spendendo il minimo possibile, anche perché l'anno prossimo comunque degli sponsor li perderai, comunque se giochi a porte chiuse non avrai gli incassi, quindi le risorse saranno ancora meno e quindi sarà forse più comprensibile delle società che diranno noi facciamo il campionato spendendo il meno possibile, però certo qualcuno obiettivamente e comprensibilmente rinuncerà. Nicola Binda è grandissimo, il primo tifoso dell'Omenia, questo lo sanno tutti, io sono non il primo, ma uno dei più grandi tifosi dell'Eco e come vedi il futuro delle due società, l'Omenia e l'Eco? Da lago a lago, ma noi abbiamo una proprietà che proprio nei giorni scorsi ha avuto per fortuna la conferma dei vari sostegno economico dei vari sponsor che avevamo, quindi dal punto di vista societario siamo tranquilli. Avremmo preferito chiaramente giocare, che eravamo seconda in classifica, in promozione a due punti dalla prima, che sarebbe dovuta avvenire proprio nella giornata sospesa a Omenia, la Dufur-Varallo di Varallo-Sesia, vincendo, saremmo andati in vetta convinti di poter vincere il campionato, non è stato così, adesso la proprietà ha una solidità tale per poter chiedere anche il ripescaggio in eccellenza, però per i dilettanti c'è un grosso punto di domanda, perché come fai a ripartire a porte chiuse, non è calcio, già fai il calcio con pochi spettatori, noi magari ne facciamo un po' di più, noi 300-400 persone le portiamo allo stadio, però giocare a porte chiuse non ha senso, io non mi sorprenderei se i dilettanti l'anno prossimo non ricominciassero a autunno inoltrato, se non addirittura a gennaio. E l'Eco cosa ne dici? Io so che tu sei tutto anche l'Eco e dei suoi accesissimi tifosi, è comunque una piazza piccola ma con sempre tantissimo seguito. È una piccola Atalanta, io l'ho sempre considerata una piccola Atalanta all'Eco perché c'è un attaccamento eccellente alla squadra e che si fa sentire, è una piazza sicuramente appassionata e che merita come minimo di stare in questa categoria, ma si è sempre lì legata a una proprietà che deve prendere le sue decisioni, so che il Presidente è uno abituato a vincere e che vuole sempre vincere, quando è arrivato in Lega Pro si è scontrato con una realtà nella quale vincere non è così facile, visto che la concorrenza, le regole, le dinamiche sono un po' diverse da quelle dei dilettanti dove l'Eco è stato in questi anni, dove puoi fare un po' da padre padrone per metterti un po' tante cose. Nei professionisti chiaramente devi ragionare con una testa più aziendale e meno di cuore e di pancia, quindi una volta che l'Eco si è ambientato in questa categoria mi auguro che abbia le potenzialità per fare un progetto un po' ambizioso e l'Eco, vederlo nei dilettanti secondo me era un insulto. Grazie, grazie ancora Nicola Binda, grazie per le tue parole, ci hai reso davvero più chiaro il quadro generale, speriamo che si giochi comunque perché il calcio a tavolino è subutio, non è calcio. Speriamo che siano le condizioni sanitarie per giocare, che è quella chiaramente la cosa più importante, però una volta che c'è la tranquillità, che ci sono le condizioni per provare, speriamo che pian piano si rimette in moto tutto il meccanismo, tutto il tran tran, ci sono migliaia di posti di lavoro legati al calcio, ci sono delle aziende, le società sono aziende vere e proprie, c'è tutto un indotto fatto di persone che campano grazie al movimento calcistico, il calcio è la terza azienda italiana, fattura 14 miliardi di euro, l'1% del PIL italiano, quindi per il tifoso è un divertimento della partita la domenica, però guardiamolo come azienda, come movimento imprenditoriale, quindi è quello che si cerca di tenere in vita, sennò sarebbe una tragedia. Anche per me e per te credo. Noi ci lavoriamo, noi ci lavoriamo e quindi campiamo di questo, però al tifoso può mancare il divertimento della domenica, chi ci lavora invece le conseguenze sono per tutti i dipendenti in questo periodo. Incrociamo le dita, grazie Nicola, grazie, buon lavoro. Ciao Marcello, grazie a voi, ciao ciao. Grazie a voi.